Buongiorno, benvenuti, questa è la segna stampa del 4 settembre, vediamo subito quali sono i temi fondamentali della giornata. Il vero tema della giornata, ma delle prossime settimane, sarà quello della Libia, ovviamente, perché quello che sta succedendo è molto semplice, cioè che il rappresentante accettato dall'ONU, amico dell'Italia, questo Serrai, insomma gli stanno facendo un mazzo così, esattamente nella sua zona di influenza, che è quella di Tripoli, che è anche zona di influenza italiana per quanto riguarda le risorse petrolifere. Tutti quanti, lo sanno veramente anche porci e cani, come si suol dire, sanno perfettamente che la Francia invece appoggia l'altro leader libico, che è il generale Haftar, che invece controlla un'altra parte della Libia. Oggi è bellissima la cartina del Sole 24 Ore, che fa vedere le zone di influenza, e su questi sono buoni tutti, ma soprattutto la presenza di pozzi e gasdotti, pozzi del gas, pozzi petroliferi, gasdotti, dove è leni e dove sono gli interessi francesi. Perché quello che sta avvenendo in Libia è una nuova riedizione di quello che fece Sarkozy con Gheddafi, cioè lo uccise, in questa nuova nouvelle vague francese macroniana, invece forse non vogliono proprio uccidere Serrai per le sue intrature con l'ONU, ma certamente vogliono scansarlo. Questo vorrebbe dire ovviamente interessi economici francesi fortissimi, non penso che la storia, lo spirito venga determinato dell'economia, ma certo non sono così scemo da pensare che non ci sono interessi economici in quello che sta avvenendo. Come me, nessuno altro. Salvini dice, attenzione, Macron sta creando un gran casino in Libia, la stessa cosa mi sembra che la dicono un po' tutti quanti, anche Folli oggi, certo non tenero con Salvini, il notista della Repubblica, dice è evidente che vi è una responsabilità di Parigi nel gran casino e pasticcio che sta avvenendo in Libia. Come sempre si gioca sul fuoco, un fuoco che però rischia di scottare più gli italiani che i francesi. La Francia da una parte dicono che l'Italia si deve occupare della migrazione, dall'altra fanno casino in Libia e la Libia è veramente, dopo l'accordo su Trocufu, è la barriera per l'immigrazione. Nigeria e Libia sono i due grandi, diciamo come possiamo dire, centri del grande problema migratorio africano nei confronti dell'Europa. Se uno dei due salta, ovviamente salta quel tappo, per cui anche l'Italia ne verrebbe di nuovo invasa. Tanto che Libia a rischio accordo Trocufu, mi sembra che sia il titolo del Corri della Sera, il titolo che va a guardare più che la geopolitica libica, va a guardare gli interessi italiani, perché questi sono quelli fondamentali. Sulla grande questione del deficit e della preparazione della nota di aggiornamento del documento di economia e finanza che deve essere presentata il 28 settembre, c'è da registrare un passo indietro di Salvini o meglio un atteggiamento più rispettoso, diciamo, delle liturgie europee. Ma su questo vi segnalo Lucrezia Reiklin, economista, rigorista, europeista, insomma che oggi sul Corriere della Sera scrive che il maggior costo dei titoli di Stato italiani deriva anche da fattori internazionali, dall'aumento dei tassi di interesse in America, dall'aumento del dollaro, dall'aumento della instabilità internazionale e si interroga su quanto costi l'uscita dall'euro indipendentemente dai costi di transazione. Quindi un pezzo molto interessante che parte da un giudizio sacrosanto, cioè attenzione perché l'aumento dello spread è più in mano a Draghi che ai casini e alle dichiarazioni del governo italiano. Sulla vicenda e su questo si interrogano, mi scrivo un pezzo anch'io sul giornale per chi avesse voglia, proprio parlare dello spread e dei supposti 5 miliardi di interesse in più che dovremmo pagare nel 2019 e lo fa anche Cerasa sul foglio, quindi per questa specie di cortesia istituzionale direi che è meglio citare Cerasa sul foglio che dice una cosa sacrosanta oggi, se l'opposizione si aggrappa alle agenzie di rating e dice brutti cattivi questi di questo governo per le dichiarazioni di Fitch, beh allora siamo messi proprio male. Conviene banalmente, dice una cosa che io condivido al 100%, se volete criticare questo governo, criticatelo, ma l'idea che dovete fare la ruota di scorta dei mercati, dello spread e delle agenzie di rating rende ridicola la vostra opposizione. Poi una piccola notazione la voglio fare sul pezzo di travaglio di oggi che parla, leggo testualmente del cazzaro verde, vabbè il cazzaro verde sarebbe Salvini, ma la cosa straordinaria è il gergo che utilizza, non soltanto nei confronti dei Salvini, il cazzaro verde che ci racconta con le sue flautolenze verbali del cosiddetto Ministero degli Interni. Allora se un giornalista scrive flautolenze, cazzaro verde, il cosiddetto Ministero degli Interni non accettando il suo ruolo che gli hanno dato il governo, il Presidente della Repubblica, gli italiani e poi vedremo anche i sondaggi, allora non ci lamentiamo di quello che succede sulla rete, non ci lamentiamo degli insulti, non ci lamentiamo degli haters, non ci lamentiamo della violenza verbale presente ovunque, la violenza verbale è travaglio. Se uno parla di un ministro come uno che parla per flautolenze e lo chiama cosiddetto Ministro degli Interni, lui è un cosiddetto cazzo di giornalista, non è che è stato nominato da qualcuno un giornalista, per carità piace un sacco di gente, tenetevelo, ma si può trattare così un Ministro degli Interni che peraltro io voglio dire ho criticato tante volte, io stesso sono criticato dalle flautolenze di quei deficienti, di fan, di Salvini che non accettano neanche una critica così, ma non accetto l'idea che si possa definire il cosiddetto Ministro degli Interni uno che è Ministro degli Interni, chiaro? Altre cose che riguardano la giornata, il Daily Mail è molto interessante oggi perché pone la storia di questa ragazza morta in Gran Bretagna, si chiama Lucy, e la battaglia della madre per ottenere le password della sua pagina di Facebook, le password non le vuole perché vuole vedere le foto della figlia, ma semplicemente perché lì ci sarebbero indizi importantissimi su chi l'ha ammazzata e hanno dovuto fare tutta una serie di cause, ma non sono ancora riuscite ad avere queste password e qui c'è il grandissimo tema che nel futuro dovremo affrontare tra la privacy supposta che Facebook utilizza nei nostri confronti e nel proteggerci rispetto agli altri privati e la scarsa privacy che lei utilizza sui dati che invece noi forniamo a Facebook, non so se è chiaro il principio, fenomenali al dire alla madre e al Ministro di Giustizia non vi diamo le password, un po' meno fenomenali a dare informazioni a tutto il resto del mondo commerciale che sono informazioni non singole ma aggregate, questa è una delle grandi battaglie di libertà del futuro, Daily Mail oggi, bellissimo oggi sgarvi in prima pagina perché se la prende con il centralino della Camera, chiama il centralino della Camera che si chiama La Batteria, dovrebbe essere uno dei centralini più prestigiosi italiani che tu dici voglio parlare col Papa, attenda, voglio parlare con Kissinger, attenda, cioè quello che ti trova chiunque, ovviamente non tutti possono utilizzarlo, lui chiama il centralino della Camera e gli rispondono DIGA, DIGA, un tempo diceva, almeno utilizzavano il gergo onorevole, seconda cosa di cui si lamenta sgarvi in questo succoso pezzo di oggi prima pagina sul giornale è che si presenta al Ministero e gli chiedono i documenti nonostante l'abbiano riconosciuto, non si tratta forse qua di un privilegio nello chiedergli un documento, i documenti sono a beneficio della sicurezza di un Ministero che identifichi una persona che non conosce, ma se la persona la conosce i documenti non glielo chiedi, a meno che questo non sia i due fiorini, avete presente i due fiorini, quelli del film in cui c'erano, insomma ve lo ricordate, i Troisi e Benigni, in cui si passava da una autocana all'altra e gli chiedevano sempre due o un fiorino, ecco questa è la burocrazia italiana, due fiorini, burocrazia italiana che oggi a parte la questione di sgarvi viene raccontata solo le 24 ore in maniera evidente, quanto ci vuole per fare una opera pubblica in Italia? 15 anni, quanto tempo per la burocrazia? 8 anni e mezzo, perché probabilmente quando entri in un Ministero ti chiedono la firma, la cosa, poi pensate voi un documento, tutta questa impalcatura non è che nasce dal nulla, nasce semplicemente perché noi diciamo non vogliamo la corruzione, non vogliamo tante altre cose, qua mi sta chiamando telefonata importante ma che non è più importante della nostra rassegna. Benedetta Tobaggi oggi scrive sulla Repubblica, è come l'annunziata la Tobaggi, però l'annunziata è una persona intelligente e la Tobaggi è una che scrive delle cose che sono veramente di una banalità, la scuola è il luogo dove formare la società aperta del domani, se volete leggere le banalità fatte in persona dovete leggervi la Tobaggi su Repubblica, è la banalità fatta in persona, dice soltanto quello che è il pensierino corretto di un bambino di quarta elementare, non più, mi spiace dirlo, non meno banale l'analisi del foglio sulla TV, mamma dei populismi, sì certo come forse i giornali sono i papà delle banalità, leggete il pezzo di Francesco Merlo che è sempre ben informato, intelligente, fa degli ottimi pezzi, ma insomma se il senso è che la televisione è la mamma dei populismi, non sono così convinto, forse il papà delle banalità è la televisione, Salvini al 34% di maio al 27%, sondaggio ieri della televisione della 7 che riprende l'epoca dei sondaggi e devo dire la verità, oggi molti giornali lo riportano, le analisi politiche su questo sono fondamentali, ma secondo me quelle che contano di più sono le analisi dei palazzi interni, di retroscena di quello che vorrà dire il sorpasso della Lega nei confronti del Movimento 5 Stelle. Per oggi è tutto, vi do appuntamento come sempre con la zuppa di domani e con tutti gli appuntamenti sul sito nicolaporro.it, ciao!